Ci hanno segnalato una persona, una quindicenne non cosciente, è stata inviata l'automedica e la BLSD della zona e hanno trovato una quindicenne con, presentava litosi alcolica e probabilmente un'intossicazione quindi correlata alcolica. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 12 quando una ragazzina, una quindicenne, è stata soccorsa dai sanitari della 118 in coma etilico. La giovane è stata notata, casciata a terra in via Ricasoli, nel cuore del centro storico aretino, da un gruppo di ragazzi che hanno immediatamente chiamato il 118. È stata trasportata in pronto soccorso, cosciente ma fortemente obnubilata, adesso si trova al sicuro comunque in pronto soccorso, sedata, intubata. Una vicenda, cui contorni sono ancora tutti da chiarire, la polizia locale di Arezzo sta portando avanti le indagini per cercare di capire dove la ragazza abbia consumato gli alcolici. Una bottiglia di grappa è stata infatti trovata poco lontano dalla giovane originaria del Casentino. Solamente una settimana fa, ad Arezzo, gli agenti della polizia locale avevano chiuso un minimarket in piazza Guido Monaco, che vendeva alcolici e superalcolici a minorenni. Le indagini erano partite a seguito della notte di Halloween 2017, nella quale 20 ragazzi, di cui 8 o 13 anni, finirono al pronto soccorso in coma etilico. L'unica cosa che possiamo dire a questi ragazzi è di avere consapevolezza del fatto che abusando di alcolici rischiano moltissimo, o la cosa più preziosa che hanno, vale a dire la vita, e fondamentalmente la rischiano per l'uso di una sostanza che comunque sia sanno già, che è dannosa e lesiva non solo a breve termine, ma anche a lungo termine per tutti gli altri organi del corpo umano. Grazie a tutti.